Sono terminate le elezioni regionali con un grande risultato per la Lega Nord, voglio ringraziare attraverso questo spot che è sul nostro sito provinciale che vi invito a visitare sovente per vedere le nostre iniziative e i nostri programmi e 65.545 persone che hanno avuto fiducia in noi. Sicuramente per noi come Lega Nord è una grande responsabilità, oggi un filo terlocutore dai comuni alla provincia, alla regione, allo Stato e non deluderemo i nostri cittadini e chi ci ha votati ha avuto fiducia in noi. Le nostre sedi dopo le elezioni continueranno a essere aperte, ne apriremo a breve altre due proprio per dare, attraverso questa apertura di queste sezioni, la disponibilità alla gente se ha bisogno. Noi vi andiamo incontro per chiarire quelle che sono le pratiche burocratiche che ogni giorno affliggono questo nostro Stato. Una grande vittoria, dicevo, in provincia di Cuneo dove la Lega è il primo partito, tra virgolette, perché noi siamo un movimento. Questo è l'esito di tanti anni di lavoro, insieme a Gruppo, Gianna Ganci, Michele D'Avico, Federico Gregorio, Sacchetto Claudio, tutti i segretari delle sezioni, circoscrizioni che hanno ben lavorato insieme ai militanti e ai sostenitori e hanno raggiunto questo risultato. Come dicevo, la nostra disponibilità c'è sempre, la nostra porta e i nostri uffici sono sempre aperti. Pertanto, se avete bisogno, contattateci, potete contattarci attraverso il numero telefonico della sede provinciale 0171 60 15 25 oppure attraverso la mail che è leganord.cuneo-agx.it Voglio ancora ringraziarvi e grazie della fiducia che ci avete prestato.